Salve a tutti, sono FnFox e questo video qua lo faccio un po' velocemente perché comunque sono le 5 del mattino Perché lo faccio questo video qua a quest'ora, del mattino, perché il mio cellulare continuava a vibrare come un matto Perché arrivava un'email dopo l'altra Perché arrivava un'email dopo l'altra? Perché in tutti i miei canali, cioè RedWoogeeFox, FnFox, eccetera Mi sono arrivato una marea di mail dicendo che i miei video sono sotto copyright Io dico vabbè, saranno per le solite muschie di sottofondo, no Poi vado qua e vedo tipo, prendiamo un video a caso Facciamo contestazione E vedo che questo video qua È stato reclamato da Illustrated Sound Music su... Perché Gustavo Carmin e Games ha fatto, a parte che ha scritto il titolo, lo lasciamo perdere Ha fatto, portoghese e brasiliano, ha fatto un let's play di Alien vs Predator Allora io voglio dire... Ehm, beh, sembrate che non c'è neanche il cursore Sto facendo le cose proprio turbo e... Adesso ho mosso il cursore, così mi dà una mano Ecco Vedete, Gustavo Carmin ha fatto sto video qua Chissà quanto tempo fa E adesso, secondo Illustrated Sound Music, che è il suo... il suo network Ehm... questo... questo video Va monetizzato da lui Infatti è che uno dice, vabbè, non sbaglio Uno lo scrive qui sotto E glielo tolgono E fin qui adesso ci sto provando Non sono sicuro che funzionerà, ma ci sto provando Però Cioè, io vado indietro E vedo che praticamente ogni singolo Video che ha fatto anche lui Ce l'ha monetizzato Il fatto è che stanno anche arrivando Continuando ad arrivare Adesso sta caricando perché, vabbè Però per dire Ci ho fatto roba di Tomb Raider Eh, qua E Tomb Raider è, a quanto pare, suo Così Cioè, monetizzato da lui Fatto video di Resident Evil Revelation È suo Dead Space È suo Non mi sembra che Dead Space, Uncharted Tomb Raider Xenoverse Siano giochi realizzati da Gustavo Carmine, sinceramente O che siano detenuti da Illustration Sound Music Cioè, non mi sembra che la Sony La Capcom E... Square Enix Siano tutte state comprate da Illustration Sound Music Io non è che voglio fare sto video qua E continuare ad arrivare a questi qui Prima non c'erano Questi qua Prima non c'erano Sono arrivati in mente Sto parlando Però tutti i miei video Mi stanno venendo Monetizzati Da... Da questo... Per terze parti Da questi... Da questi qua E... Vabbè Io non è che C'ho tutto sto enorme guadagno Però mi sta un po' sul culo Che arriva qualcuna Che non c'entra nulla Forse è stato Capcom Forse è stata Sony E dico vabbè Sony ha chiesto Monetizzazione Quindi un po' i diritti ce li ha Però... Beh questi qua no Questo qui e questo qui no Brothers si Brothers si Tipo di Sene anche Tipo di Sene musica Non c'entra niente Però la maggior parte Di questi claim qua Suguri a parte E a parte Mi sembra Sene table 6 E... Doki doki Quelli lì sono tutti Claim che non sono fatti Da Gustavo Carmine O meglio Da illustration Music Sound E... Sono tutti Questi qua Sono tutti i claim Fatti da quelli lì Se io vado adesso Vado qua Ad includere contenuti Di terze parti Presenta la contestazione Qua Illustrate Sound music Eh... Per use eccetera Risulta che un claim È ottenuto Perché Gustavo Carmine Ecco Games Ha fatto Ha giocato A sto gioco qua E qui c'è il finale Che ovviamente Posseduto da lui Io ho rubato Secondo La logica Di Illustrate Sound music O Qualche botto Automatico Non lo so Io ho rubato Il video Di Gustavo Carmine Perché nello gioco Che ho giocato io C'è la stessa cutscene Del gioco Giocato da lui Cioè per un film Filmato Capito E devo monetizzarlo Gustavo Carmine O Illustrate Sound music Uno dei due Io ho visto il suo canale E lui ha fatto una mini live In cui diceva Scusa Non è colpa mia Eccetera Io posso crederci Fino a un certo punto Ok Cioè Io l'ho anche scritto sotto Guarda Io sono in buona fede Ti dico Guarda Secondo me Può essere anche Che non è colpa tua Non ti voglio Mettere Nei guai Però togli Sti cosi Per favore Però Boh Infatti è questo L'aggiorno Non tanto per i miei Iscritti Anche per i miei Iscritti Ok Però anche perché Tengo noto per YouTube Che YouTube è Non ci guarda sempre A queste cose qua Ok Sul senso delle volte Che YouTube Con qualcosa di automatico Ha chiuso dei canali Ha fatto dei problemi Eccetera Io in buona fede Però ci tengo A dire a YouTube Che come vedi Io sto Contestando Questi video qua Perché Risultano Video Di Gustavo Carmine E Come ho detto Io non credo Che Gustavo Carmine O il Giuseppe Song Music Detengano i diritti Di Resident Evil Non mi risulta Così come Uncharted Così come Tomb Raider Quindi Lo faccio anche un po' Per gli iscritti Perché comunque Alla fine Caso Nel caso Capito Fosse successo Anche a voi Fatevi un favore Scrivetevi This video Is recorded by me Eccetera Eccetera Please remove This third party claim Perché così Vi può aiutare A rimuovere Questo problema qua Che comunque Non dovrebbe In teoria succedervi nulla Io sto facendo Questo video qua Un po' per parmi il culo Per farmi da YouTube Che comunque C'ho ragione io Perché oh Se fosse stata Capcom Allora alzo le mani Capito Capcom detto che Però visto che è stato Gustavo Carmine O meglio È stato a Illustrated Soul Music A me sembra Che non detenga i diritti Di Resident Evil Quindi Io che scrivo Aspetta Nah Non ce l'ho più Copio incollato Però comunque Adesso qui in giro Dovrebbe esserci Ecco qua This is a gameplay Recorded by me Please remove Third party claim Lo faccio perché Giustamente Il video È stato registrato Da me E quindi Il third party claim Il contenuto Di terze parti È stato È stato Contestato È stato notificato Per errore O per Non lo voglio neanche sapere Se non è per errore Non voglio saperlo E quindi Ci tengo appunto A fare Tenere Testimonianza Video Del fatto che Queste segnalazioni Qua Queste contro notifiche Le ho fatte Per questo motivo qua E per favore Youtube Fatti un favore Da solo almeno Dai un occhiato Un po' prima A queste cose qua Perché non è possibile Che la gente Ancora nel 2019 Anzi nel 2020 Tra poco Possa ancora Subire Queste 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 cavolate Adesso vabbè A me è andata anche bene C'è gente che ha preso Proprio il canale Perché segnalavano i video Per copyright Perché magari Era un video critica O magari a qualcuno Non piaceva O magari proprio qualcuno Ha segnalato con dei falsi claim Degli strike Ha buttato giù il canale Però veramente Io trovo Sta cosa qua Un pochino Schifosa Posso dire la verità E niente Questo video qua L'ho fatto un po' turbo Lo pubblico anche subito Anche se sono le 5 E 16 di mattina Vi faccio proprio vedere Vi faccio lo screenshot Che sono le 5 e 16 di mattina Mi sono alzato Perché il cellulare Era sempre io E ho pensato Ci fosse qualcosa Che non va E niente È questo Video un po' per youtube Un po' per testimonianza video Un po' anche perché Magari a qualcuno È successa la stessa cosa Se è successa la stessa cosa Ho detto nei commenti Di Carmine Di Gustavo Carmine Che Che il network Dovrebbe rimuovere Questi third party claim Se mandate La contro notifica Fatto sta che però Secondo me Non è giusto Perché comunque Alla fine Il network sta guadagnando Su registrazione di altri Perché adesso Magari uno ha fatto Un canale Non so Anni fa Ha giocato Ha giocato a Tom Bride Ha giocato ad Uncharted Ha giocato a Non so Quali altri giochi Ha giocato a Gustavo Carmine E adesso si trova Il canale pieno di Monetizzazione Di altra gente Che non è lui E quindi i soldi Vanno a gente Che non c'entra nulla Con Con il video originale Quindi non sono io Che dovrei fare La contro notifica Siete voi Che dovreste non fare Questo errore E visto che Vieni siete accorti Che c'è questo errore Toglietelo da soli Io faccio la contro notifica Però non dovrei A livello etico A livello di giustizia È sbagliato Che sia io A dovermi muovere Per mettere a posto Sta cosa qua Che sono io A dover Manualmente Fare contestazione Perché poi Tantissimi altri Magari non lo sanno Magari non ci guardano Magari adesso Hanno altri cazzi E voi intanto Vi intascate dei soldi Di monetizzazione Di roba che non è vostra Ed è sbagliato Poi io Il mio video qua L'ho fatto Giustamente Ognuno può fare un po' Quel che gli pare Youtube Spero che si svegli un pochino La contestazione La faccio Dopo che ho fatto Contestazione Mi rimanda Nella pagina dietro Guarda il copy Guardate con la scritta Che entro il gennaio 2020 Dovrebbero rispondere Io Spero che Lo facciano prima Sinceramente Non perché guadagno Chissà quanti soldi Perché se voi state qua A cliccare qui Vedete che Sti video qua Aiuto E che questo video qua Mi sono preso un po' Con la mia stessa voce Sono visualizzati Poca un cazzo Ok Cioè non è che dico Wow sto perdendo i milioni Anche perché il mio canale È monetizzato Veramente poco Però Veramente Dai Cioè Cioè lo faccio anche Perché è una questione Cioè A parte che non voglio Segnazioni di copy Adesso su canali In generale Perché sono pericolose Però veramente Non Non va bene Che si diano Che si lasci Poi uno dice Vabbè sono pochi euro Però non c'entra niente Non è che Se sono pochi euro Allora lo permetti Una cosa sbagliata Rimane sbagliata Eh detto questo Vi saluto Vi do un po' inutile Ma andava a fare Cioè un po' inutile Non è molto diciamo Di intrattenimento Ecco facciamola così Mettiamola così Però è utile Per la salvaguardia Del mio canale E anche magari Posso aiutare qualcuno Lo faccio volentieri Però Non Non si fa Cioè a me Sta cosa qua Sta un po' sul culo Non so voi Vi saluto a tutti Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao